Il marito solo in mutande gira per la casa, sa che i Moncler sono nascosti, lo sa, e apre la caccia. C'è anche la muta dei cani, vai vai vai, ma non troverà un cazzo, perché è astuta lei, ha esperienza, ce la nasconde, è bravissima, eleva le tracce. Allora lui va in cucina e dice, vabbè, mi faccio due uova. Cugina, ci sono i pensili, lei, mamma, moglie, ti fa comprare i pensili, tantissimi pensili, si chiamano pensili perché pensano, pensano di aiutarti. E quelli più affidabili, quelli più comodi, dovrebbero essere questi. Cioè, dove fai due uova, un pentolino, apri il pensile e fai così, lo trovi. No, la donna non lo so quale logica può usare. Mette la roba che dovessi usare tutti i giorni, lassù. Lassù. Poi c'è lo scaleo che ha avvitato anche male, nell'ultimo gradino c'è il numero di telefono dell'ortopedico. E c'è una clava e poi c'è la zuccheriera, ecco dove cazzo ha messo la zuccheriera.